Non riesco a capire. Interessante. Non riesco a capire. 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 Merda, ho perso la radio nell'incidente. Che diavolo era? Dove sono i rinforzi? I rinforzi stanno arrivando. Dì loro di sbrigarsi maledizione. State indietro! State indietro! Ti avverso! Ti avverso! Puoi dirci cos'è successo? è tutto ok. È tutto ok. È tutto ok. che è tutto ok. È tutto ok. che è tutto ok. È tutto ok. È tutto ok. che è tutto ok. È tutto ok. che è tutto ok. Dio, ci sono corpi ovunque. quelle creature li hanno uccisi. Ma perché? Jonah! Abby! Ehi! Lara! Ho visto la trinità assaltata da una specie di mostruosa creatura. Cosa? Si bilava e si muoveva in modo così veloce. Lara, sembra la leggenda del distacco. Ti stai prendendo in giro. No. So cosa ho visto. Sei al sicuro? Sì. Sto tornando. Sì. Giona! Sono scesi di sotto. Hey! siete già scesi stavamo aspettando te cosa credi che troveremo la fresco mostrava una serie di prove forse conosco un'altra strada ok vado avanti io ci vediamo dall'altra parte e e e e e e e e Grazie per la visione 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 Il ragno Ora mi metto a salire Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Dopo secoli di terremoti e tempeste Grazie per la visione 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 Grazie a tutti Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti